No ragazzi, questa qua è da film, questa è da film, assurdo, quando ero un bambino me lo ricorderò per sempre, me lo ricorderò per sempre, cioè ve lo giuro è una cosa che uno non può dimenticare. Ero piccolo, avrò avuto 5 anni e mio fratello 9, cosa successe? Praticamente era sera, erano circa le 20 perché avevamo appena finito di cenare, questo poi me lo raccontarono i miei genitori, ma io me lo ricordo ancora, io ho il ricordo di io che mi nascondo sotto il tavolo. Cosa è successo? Praticamente a un certo punto sentiamo, madonna che paura ve lo giuro, una paura, a un certo punto sentiamo la porta d'ingresso trapanata, cioè voi immaginate, siete in casa, ok, e iniziate a sentire, e vi inizia a tremare casa, perché cioè fidatevi che quando uno ti inizia a trapanare la porta di casa, cioè, ti caghi in mano, lo senti. Cioè se uno adesso mi inizia a trapanare la porta, cioè mi trema il pavimento, ok? Io ero piccolissimo, eravamo tutti in cucina, ok? Eravamo in cucina, allora tipo, fate conto che stavamo tipo mangiando, sentiamo, ma fortissimo, cioè forte forte, e nel mentre in cui si sentiva sto rumore, si sentiva, avete presente quando tipo, cioè la porta d'ingresso sbatte, che tipo fa quel rumore forte? Quando uno te la inizia a fare così, cioè che senti, ecco, sentivamo qualcuno che, cioè, stava martellando e provando a forzare la porta, ok? Il problema è che io e mio fratello eravamo due bambini, cioè avevamo 5-9 anni, quindi inizialmente io lì per lì, cioè io all'inizio credevo fosse tipo un terremoto, Quindi inizialmente appena è, mi sono messo subito sotto il tavolo della cucina, perché credevo fosse un terremoto Poi, cosa è successo? Che quando i ladri, cioè nel senso, poco dopo, che i miei genitori si sono accorti che appunto erano i ladri Non ho ben impressa la scena, però tipo mia mamma mi aveva tipo nascosto sotto il letto e poi siamo scappati di sotto Grazie 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 Grazie